In pochi perdonano a Fratelli d'Italia, perché ci sono istanze censorie molto forti rispetto alla vostra storia. D'altronde lo diciamo anche il sistema dell'establishment culturale mediatico racista, lo conosciamo non da ora. Chi senza peccato scaglie la prima pietra, diceva qualcuno, sarebbero in pochi a poterla scagliare in Italia se vedessimo le storie di tutti. Quanto alla real politica e ai dati che sono stati citati, ve ne cito uno soltanto. In Europa, dati recentissimi usciti, ci sono 100 milioni di persone in stato di povertà, significa un cittadino europeo su 5. Tra le regioni più povere sappiamo che ci sono quelle del sud Italia e la Calabria. L'Africa ha oltre un miliardo, quasi un miliardo e mezzo di cittadini africani e è uscito sempre a proposito di Francia un sondaggio secondo cui il 52% dei giovani africani vogliono venire in Europa, significa centinaia di milioni di persone. Noi abbiamo solo in Italia qualche milione di persone con il reddito di cittadinanza perché il lavoro non si trova. Spiegatemi come l'Europa, come l'Italia, come il sud, come la Calabria possono accogliere queste persone e dandogli un futuro, se non riusciamo a dare un futuro, è le nostre persone che sono costrette a doversi prendere il reddito di cittadinanza. E questo è il tema, perché sennò poi finiscono a delinquere o ad aumentare le sacche di povertà, ad ammazzarsi con i nostri poveri. Intanto, onorevole Sofo, c'è un diritto che è inviolabile, che è quello alla vita, all'esistenza, per cui non si può lasciare una nave in mare con bambini, donne anziane, uomini ammalati per settimane per soddisfare il desiderio di Salvini. Questo non è possibile. Ma non è possibile nella vecchia colta Europa. Cioè, perché noi siamo stati sempre agitati da principi e valori che ci hanno tramandato dall'illuminismo in poi, che sono quelle della libertà, dell'uguaglianza tra gli uomini. Noi dobbiamo tutelare e garantire questi diritti. E non possiamo fare ragionamenti ragionieristici per, come dire, segmentare un problema, che è quello dell'immigrazione, ridurlo a una sorta di innalzamento di barriere per evitare che il barbaro invada le nostre terre. Ma nella terra degli Stati Uniti d'Europa, ripeto, della vecchia colta Europa, questi sono valori che io pensavo avessimo già assorbito e assimilato. Invece facciamo fatica. Sono uomini e donne, onorevole Sofo.